Grazie a tutti Stiamo tirando un video Ti ho appena sentito Proprio lei Cioè è arrivata Io non ti ho sentito Adesso arrivo No non lo fare Cos'è? Ma Rabbia 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 Che cosa? Rabbia 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 Appena inizio a girare il video Proprio ancora non sento cazzo Qui se non sente niente Io chiudo al finale Beh che si sente comunque qua Perciò Beh che ne vuoi fare Chissà Ma Sì Ma che... Che cos'erano? Respira... Sveva... Sveva... Ecco... No... Ma che è? Non è rimasta... Minchia... Minchia... Ok... Facciamo la Tommy... Minchia... E' un'altra cosa... Un'altra cosa... Lala... 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 Ai ai ai... Un'altra cosa... Nooo... Sai cosa potresti fare? Ai mai sentito... Quando fai... Quando fai... La pasta in quadratini... Presente la rotellina... Fai un casino con la donna, fai un giro e faccia lo stegno. Vi voglio andare? Come vuoi? Ovviamente ho cominciato a girare in fretta e furia perché pioveva, c'erano i tuoni appena primo reg. Sole. Ma che fa? È bellissimo, non lo facevi da piccola? Sì, ma mica come massaggio. È bellissimo. Ripigliati. Posso rifare? Ce la fai? Però è bello, eh? Eh, ma che casino! Uh, un fly! Che cacchio è sto rumore? Tanta pazienza che ora... Ma porca troia! Merda! Merda! Meravigliosa! Non proprio! Ma cos'è? Ma è Cristina da Viena? Occhi di canto! Occhi di canto! Occhi di canto! Occhi di canto! E così però non riesco a girare il video. E come cacchio faccio ora? Aspettino questa musica di breve! No. Eh, no. Vi proviamo fra mezz'ora, non saprei. Che strasso.